Quando un mese abbondante fa, doveva essere il 21 gennaio Inter-Atalanta, quando un mese fa si decise di rinviare la partita perché c'era la Supercoppa, spostarla, molti pensarono che questa potesse essere un po' la Bologna bis, tornando a due anni fa, una trappola per l'Inter. In realtà poi da allora è cambiato tutto. La Juve è riuscita a vincere una partita su cinque. Il Milan non c'è mai stato di fatto in questa lotta a Scudetto. L'Inter ha preso il largo, le ha vinte tutte e domani Inter-Atalanta non è più la trappola per l'Inter, ma può essere la partita che le dà di fatto, insomma, la quasi certezza di vincere questo campionato. In caso di vittoria domani, Thomas, Inter sarebbe a più 12 sulla Juve, più 16 sul Milan a febbraio. Ecco, questa qua è una partita fondamentale perché vincendo questa gara in casa la deve vincere per forza. con 12 gare alla fine, calcolando, che ho fatto adesso due calcoli, guardando le squadre che l'Inter giocherà a San Siro, con tutto il rispetto del Torino, del Cagliari, dell'Empoli. La Lazio ce l'avrà in casa, il Napoli lo avrà in casa. Le partite fuori casa sono Frosinone e Udinese e Verona e il derby, ovviamente. Quindi, guardando anche il calendario con questa squadra che sta andando, ne abbiamo parlato prima, chi metti metti, ormai è una squadra rodata e va da sola. Ma questo perché? Primo per il vantaggio che tu hai, perché è un vantaggio molto importante. Puoi giocare anche più sereno, ti puoi concentrare anche sulla Champions League in maniera diversa. Però domani, secondo me, è la partita fondamentale perché questa Atalanta, ragazzi, gioca veramente a pallone e ultimamente sta facendo piangere tante squadre. Col Milan, col Milan, sì, col Milan. Ah, che sei bene che al Lopera, sinceramente, non ha fatto. Ha giocato con il Milan, però ha pareggiato, ha portato via un punto da San Siro. No, quello sì, però ha giocato meglio il Milan. Sì, meglio il Milan, sicuramente. Il gioco aggressivo dell'Atalanta domenica non si è visto. Credo che anche per i giocatori stessi, avendo questa partita fondamentale in casa, e poi, ripeto, guardando il calendario, sette partite su 12, mi sembra che sono 6 e 6 o 7 e 5 in casa. Beh, tu adesso sei andato oltre. Sono andato oltre. No, io l'ho calcolato tutte, proprio perché... Lui è già sul pool, ma anche te stai. Io voglio chiedere a voi che non siete coinvolti emotivamente come lui, no? È realmente una partita fondamentale o l'Inter, col vantaggio che ha, ormai ha fatto quello che doveva fare. C'è il solco l'ha creato, Marcello. Ma lui che cerca di dare un interesse al campionato, cerca di inventarsi un qualcosa, partita fondamentale. Ma ormai il campionato, dai, obiettivamente è finito. L'abbiamo visto quell'anno lì con il Milan, è vero che non è la stessa Inter. Ma non c'erano 12 punti di vantaggio. E' vero che poi devono giocare anche Mila, Juve, devono scontrarsi, poi c'è il Napoli. Quindi è ancora un po' più facile la situazione per l'Inter. Però, però, testa bassa, si lavora, si gioca. Allora aspettiamo ancora tre, quattro partite, poi vediamo. Ma se tutti diciamo, ormai... È scaramanzia, è scaramanzia. Abbiamo ammesso tutti che l'Inter è fortissimo. È vero, ma è vero. Io ti dico anche di più, per me l'Inter è veramente seriamente una candidata anche per la Champions. Io non la escluderei, perché è migliore dell'Inter l'anno scorso. Quello lo vedremo, lo vedremo. Guarda, mi piangi il cuore doverlo dire, però devo ammetterlo. Però lo pensi, lo pensi sinceramente. Sì, perché obiettivamente quando vedo l'Inter, quando sono costretto a vedere l'Inter, mi diverte, è un bel calcio. Cioè vuol dire che Inzaghi ha fatto tesoro di tanti errori. Terroi che non fa più quest'anno, anche nelle sostituzioni. Il gioco è migliorato tanto, i giocatori hanno assimilato bene tutti gli schemi che lui vuole adottare. A volte mi sembra di rivedere Conte in panchina. Sai che Conte era uno che non stava mai fermo e che muoveva i giocatori come se fosse sulla Playstation. Tu rivedi un po' con te in Inzaghi. La stessa cosa vedo Inzaghi, che è l'unico a cui è permesso di andare fino alla bandierina, uscire dall'aria tecnica e andare a parlare con i giocatori fino alla bandierina. E' l'unico a cui è permesso, vabbè ma ormai su questo ci lasciamo perdere. Perché se no poi dici che io sono polemico. Però obiettivamente non c'è più partita. Perché se no, se dobbiamo dire che quella di domani è una partita fondamentale, allora non crediamo alla forza dell'Inter. Io sono sicuro che domani l'Inter vincerà anche con l'Atalanta. E' importante perché vai più dodici, più sedici è diverso. No, è per i più dodici. Dobbiamo arrivare a più dodici, ma secondo me è meglio più dodici che a più dodici. Più dodici o più nove, sei sempre a più nove. Questo voglio dire. Più nove sono tre partite. Ma sì, ma scusa, ma quell'Abeli... C'è un derby da giocare. Sì, ma... Per dire. Ma quell'Abeli le può dire chiunque. Un'analisi di un addetto ai lavori è vedere lo stato di salute di una squadra. E la squadra più forte è l'Inter. E dov'è che sono i dubbi sullo stato di salute dell'Inter? No, non ce ne sono in questo momento. Poi, se mi dici che quando c'è il sole è meglio che quando piove, è vero. Certo. Ma quello lo sappiamo tutti. Anche perché, Paolo, si è fatto male Turam, si è fatto male Cialanoglu. Alla fine le hai sostituito. Contro il Lecce comunque ne ha cambiati sei, se non sbaglio, che sono gli stessi che aveva cambiato Pioli e Monza. Però la differenza è palese. Cioè, se Pioli fa troppo turnover, la squadra perde totalmente l'identità. Mentre l'Inter in questo momento è arrivata a un livello, Paolo, che si può permettere anche quello, no? Ma lì è stato bravo Simone. Ma sì, perché Pioli magari riesce a sopperire, ti fa una fase difensiva. Beh, no, uguale no, perché è ovvio che con le A in panchina non la fai uguale. Però, però, è sempre sbilanciato in fase difensiva. L'Inter invece ha grande equilibrio, no? Perché tra tutti i numeri da record c'è la difesa e ci sono i gol di Lautaro. No, sentimo un dato l'altro giorno incredibile. Cioè, la differenza reti dell'Inter, più 51, è superiore ai gol che ha fatto il Milan. Che è il secondo Milan. Cioè, il Milan ha fatto i 50. L'Inter ha una differenza reti di più 51. No, no, è impressionante. È qualcosa effettivamente incredibile. E se dice, quando vincerà la Scudetto, perché lo vincerà, cioè, secondo me, fa quel salto. Stai tirando. No, ma no, adesso. Dice a lui che è scaramata. Eh, ma si deve impegnare tanto. Scusa, ma prima della pubblicità era di che ancora facevi i conti. Allora, 5, 6, 7, 8. No, lui prima di Monza ha fatto la tabella. Io prima di... E infatti il Milan non ha più visto la tabella. Io sono stato più sincero. No, l'ho fatto tabella. Io sono stato più sincero. No, ma lui faceva i conti prima della pubblicità. Se vince anche questo Scudetto, allora comincia ad entrare nell'Olimpo degli allenatori. Secondo me anche a livello internazionale. Perché anche questo sarebbe il suo primo. Se vince questo Scudetto. Primo, ha fatto finale di Champions. Ma non è un trofeo la finale. Uno ha perso. Secondo me, sì, per come sta giocando, per come sta facendo giocare. Però aver restitucato da sua bene. Sì, però hai fatto una finale l'anno scorso. Per come sta giocando l'Inter. Io credo che sia stato... Quello che ti fa impressione è che è maturato, sempre anno dopo anno. Ha migliorato tanto. Secondo me c'è una cosa sostanziale come differenza dall'anno scorso è il fatto che comunque è stato messo sulla graticola l'anno scorso in Zaglia. Come no? Di questi tempi proprio. Un anno fa di questi tempi in Zaglia era più fuori che dentro. Sì, sì, ma soprattutto se lo scorso campionato... Se perde con Barcellona in casa, lo esonerono. L'anno scorso in campionato i giocatori erano completamente spaisati in campo. Molti nemmeno lo ascoltavano quando parlava. In Champions invece cambiava completamente la storia. Giocavano da Dio, sembrava un'altra squadra, tant'è che poi alla fine si è arrivato in finale. E secondo me lei è persa anche in maniera... Giocando bene. Giocando veramente bene. Quest'anno... Dicevano questo, dicevano le grandi partite le vincono i giocatori da soli, quando invece l'Inter non vince colpa di in Zagli. Questo era quello che si diceva l'anno scorso. Sì, però l'anno scorso tante volte, anche per dire in Coppa Italia con il Parma, mi ricordo, c'era la difesa che dormiva. Cioè un attaccante del Parma riusciva a scartare tutta la difesa, andava tranquillamente in porta. Tante volte magari stava vincendo e veniva ripresa e perdeva sovente. Quindi c'è un, secondo me, un lavoro fatto anche dal punto di vista psicologico da in Zagli, da parte sua, per motivare i suoi al di là del punto tattico. Sulle 12 sconfitte dell'anno scorso, 7 è andata in vantaggio. Eh, infatti, vedi. Quindi pensa un po'. Però quest'anno è una musica completamente diversa, non c'è paragone. C'è l'Inter ha perso una volta, col sassuolo a settembre e poi basta. Però in Zagli, secondo me, l'anno scorso ha fatto degli errori e devo dire che quest'anno ha recuperato, è stato attento, si vede che ha capito dove sbagliava e il risultato si sta vedendo. Ragazzi, l'Inter nei primi 15 partite, non so quanti gol aveva preso, 32, una cosa del genere. Quest'anno ne ha presi 12, 63 gol fatti. Perché loro dal ritiro di luglio e agosto si sono mentalizzati subito sulle cose da migliorare. Esatto. Hanno fatto un ottimo lavoro, pian piano, perché io ricordo sempre che abbiamo visto un'ottima Inter in campionato, un po' meno nel giro dei 15. Sì, Marcello, però c'è da dire una cosa. Sì, dove si è qualificata con due partite tantissimo. No, no, ho detto un po' meno. Non era facile, Marcello, sostituire questi giocatori che sono andati via. Se tu vuoi vedere i giocatori che sono andati via, c'è la colonna proprio, dal portiere al centrale di Skriniar, al centrocampista. Abbiamo anche detto che in attacco, l'attacco dell'Inter non era forte come di altra, perché chiaramente Sanchez e Arnautovic non erano al livello di Turano e Lautaro. Lì se adesso anche loro stanno uscendo fuori. Quando ti va via un Brozovic, un Skriniar, il portiere che l'anno scorso, guardate quest'anno sta facendo disastri, ma l'anno scorso ha fatto benissimo, Onana, Dzeko, Lukaku. Ragazzi, quando perdi questi giocatori qui... No, no, senza dubbio. Ma poi secondo me, poi dopo, l'altro elemento psicologico è la consapevolezza di essere diventati forti con la finale di Champions. Esatto, lì è stato bravo. Perché l'ha giocata pure bene, ha detto, ragazzi, se siamo arrivati fino a qua, abbiamo perso, immeritatamente, possiamo giocare... Tu dici, lì è arrivato il Skriniar. No, un'altra cosa bella, secondo me, poi... Vai, 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 sicurati. No, un'altra cosa bella, secondo me, è il fatto che non si accontentano. Cioè, hanno questa fame di vincere, di continuare a segnare, che fa paura. Cioè, l'altra sera 4-0, la volta prima 4-0. 4-2 con la Roma. 4-2. E su 2-2, soprattutto, Lautaro va a prendere il pallone dentro la porta e lo mette subito al centrocampo. Lì ti fa capire la fame, la voglia di andare a vincere. C'è la mentalità. C'è la mentalità. C'è chi si accontenta, appunto, dell'1-0, no? Poi si chiude e sta lì a guardare. Giusto? No, e guardate perché mi è venuta in mente qualcuno a spada che fa così. Ma dice questa cosa guardando lui, ironicamente, è chiaro che lui si sente chiamato in casa. Poi è lì che vorrebbe nascondersi, no? Eh, infatti sta andando sempre più giù. No, scusate, non mi sto mettendo più giù. È che qua... Eh, ma guarda l'inquadratura. Qua con Lavia ci siamo dovuti stringere, non so più di mettermi. Qui è tutto stretto, i piedi non sono... Cioè, chiaramente sono in piedi, sono in piedi, sono in piedi, sono in piedi. E' un bel banchetto a due, ben distanziati. Vuoi venire qua in mezzo? Ma è uguale. Se vuoi stare qua, vieni qua, non c'è problema. Vediamo la probabile formazione dell'Inter domani sera. Dopo il megaturnover di Lecce domani dovrebbe tornare l'Inter titolare. a parte però quei tre infortunati che ci sono perché Acerbi, Cialanoglu e Turam proveranno a recuperare sostanzialmente per Madrid questo è l'Inter, Sommer in porta Pavard devrà i bastoni in difesa Darmian, Barella, Aslani, Mkhitaryan e Di Marco a centro campo Arnautovic sembra favorito su Sanchez con Lautaro Martinez Alla fine sono due giocatori Aslani e Arnautovic Arnautovic prende il posto di Turam e Aslani al posto di Cialanoglu però l'Inter è quella titolare quindi qua dimostra però ti manca Cialanoglu in altri tempi avremmo detto che era un problema però voglio dire con l'Atalanta Aslani può giocare tranquillamente ha fatto una buona partita a Lecce ha acquistato fiducia secondo me quindi può ripetersi tranquillamente in casa davanti anche ai suoi tifosi e Arnautovic mi auguro veramente con tutto il cuore che certi gol non se li mangia più perché se no veramente Sì bisogna anche vedere l'Atalanta Sì no certo Dopo la pubblicità infatti vi farò ascoltare Gasperini e ci vediamo anche la formazione dell'Atalanta perché l'Atalanta in tutto questo non è che gioca solo per disturbare l'Inter l'Atalanta è il fulcro della zona Champions in questo momento quindi sono in tanti credo domani a tifare Inter tutte quelle squadre lì e poi ci sono quelli che invece tifano l'Atalanta tipo Marcello anche se lo vedo un po' abbattuto Guarda posso fargli tutti i complimenti possibili Voi va bene ma i milanesi non ti parli È un pareggio Tutti finì Inter domani Certo Ti spiego questa cosa Ti dico questo retroscena Prima della puntata io e Thomas abbiamo fatto il video quello che va sulla pagina Facebook Network Sport per lanciare un po' la trasmissione e Fierro ha detto quindi lo puoi andare a vedere lì ha detto l'Avia domani ti fa sicuro Inter Certo Perché gli serve per la classifica E invece no Invece no L'Avia ti fa Il pareggio Il pareggio Il pareggio Se l'Atalanta vince lì col piatto sul collo Tu pensa l'Inter Pensa al tuo etico Pensa al tuo etico Arriverete quinti anche quest'anno Pensa al tuo etico E poi da l'incepio sullo stesso Io non li guardo nemmeno Campiero Gasperini ha da anni ormai Questo conto aperto con l'Inter Da quando l'allenò per pochissimo tempo Poi quell'esonero burrascoso Da allora ogni volta che l'Atalanta gioca contro l'Inter Lui cerca di batterla con ancora maggior voglia Rispetto alle altre partite Domani è una gara insomma proibitiva Almeno a vedere i numeri di questa Inter Sentiamo Gasperini in conferenza stampa Ci dice insomma quello che è il piano partita di domani a San Siro L'Inter è una squadra completa in tutto Quindi Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro Quest'anno sta venendo fuori ancora più Una squadra che nonostante abbia una grande tradizione Una grande storia Poche volte si è vista giocare l'Inter con questa qualità Cioè di scusate in aventi l'Inter Però in questo modo è qualcosa di quasi unico Ha qualità in tutti i reparti Gioca la squadra Lo fa in Italia, lo fa in Europa All'andata abbiamo fatto una buona partita Abbiamo fatto un'ottima gara Poi abbiamo fatto qualche errore Soprattutto sul rigore che ha sbloccato un po' la partita Poi siamo rientrati in gara Siamo andati anche vicino a pareggiare È stata comunque una partita abbastanza equilibrata L'obiettivo è di ripetere la prestazione in questo modo È un recupero Domani poi la classifica Possiamo dire sarà quella definitiva Almeno per questa parte del campionato E quindi se vogliamo Abbiamo poco da perdere Tutto quello che può venire Può essere molto favorevole È l'unico campo che non siamo riusciti Che non siamo mai riusciti a vincere E uscire vincitori Vediamo Ci proviamo Sicuramente ci proviamo Ci proviamo Dice Gasperini Non sono d'accordo con Gasperini Che dice non abbia niente da perdere Perché secondo me C'ha più da perdere l'Atalanta Perché se perde Comunque rischia di farsi risucchiare In un'eventuale corsa a Champions Secondo me l'Inter Lo dicevamo prima A me non interessa È chiaro che più 12 È meglio che più 9 Però Secondo me l'Inter È più da perdere l'Atalanta Ma può farcela Può provarci domani Paolo C'è qualcuno in questo momento Che può fare l'Inter in Italia Allora Vedendo l'Inter Fin qui È difficile Non abbiamo ancora trovato Una squadra in grado di metterla sotto Vedendo l'Atalanta Col Milan Nell'ultima partita È stata un po' una delusione E l'Atalanta però Arrivava da 5 vittorie consecutive Soprattutto avendo segnato Se non sbaglio 17 gol in 5 partite Cioè una roba È già una media alta di gol Quindi qual è L'Inter È quella che conosciamo Ma l'Atalanta qual è? È quella di San Siro Che è rimasta sorpresa dal Milan Dal gol Lampo di Leao Dalle giocate di Leao Che è sembrato un po' timida Stanca Non aggressiva Arrembante come al solito Beh io dico che l'Inter Ovviamente è favorita Marcello? Sì anche per me è favorita Ma poi soprattutto Non mi piace questa versione Di Casperini Un po' dimesso Cioè il fatto che abbia detto Non abbiamo nulla da perdere Non ti è piaciuto? Non è vero che Non è nulla da perdere Caspita Se perdono Non mi è piaciuto Devo dire che questa conferenza C'è un po' così Se vince è quarta da sola Ragazzi Nel senso che io L'immagino sempre uno Che vada per andare a vincere E già col Milan Non mi è piaciuto niente Come se l'è giocata Proprio non mi è piaciuto niente E lui a fine partita È riuscito ancora a dire Che andava bene così No? Beh il risultato Ragazzi il risultato va bene così per forza Sapendo quello che può rendere l'Atalanta Insomma un po' riduttivo Accontentarsi del risultato Questa vigilia Che lui si esprime in questa maniera di messa Ma non mi fa ben speranza Anzi penso che l'Inter Non dico vinca 4-0 Ma possa vincere largo Dopo aver sentito Gasperini Hai ancora più l'idea Che l'Inter vinca facile domani Mariana? Prima di che l'Atalanta giocasse con il Milan Forse lo stesso Gasperini aveva detto Di sentire Cioè che il fatto di giocare due volte a San Siro Potesse compromettere in qualche modo a livello morale la squadra E secondo me però questa pressione di San Siro L'ha accusata più con il Milan Forse pensando già al fatto che dovesse giocare con l'Inter Non lo so Io mi immagino di vedere domani una partita Da parte dell'Atalanta diversa Che con quella con il Milan Dove obiettivamente sembravano spesso e volentieri fermi in campo Imbambolati quasi Infatti l'altra sera eravamo qui a commentarla Ed è stata veramente una partita molto molto noiosa Domani credo che vedremo una partita più combattuta Però penso che l'Inter vincerà Max? Ma secondo me la partita sarà diversa Perché secondo me Gasperini difficilmente sbaglia due partite di seguito Non so se è un problema magari fisico Adesso rientra anche Pasalic magari in mezzo Secondo me l'Atalanta ormai se la gioca la partita Lui ci spera Lui ci spera sempre Lui ci crede nell'Atalanta Lui ci crede che il Milan arriva a vincere lo scuoletto Fin la settimana scorsa l'Atalanta è la squadra più in forma del campionato O sbaglio? Quindi qui ti sta rispondendo Altro che ti fare Inter Perché lui ti dice Era la squadra più forte Arrivava da una serie positiva Chi l'ha fermata? Il Milan Allora Fatemi capire Lui è più preoccupato Che l'Atalanta Se perde Si avvicina più all'Inter No no io Ma si avvicina per modo di dire Lui pensa che domani l'Atalanta fa la partita Si fa la partita Poi dopo Magari vince pure Colpo Gobbo Non gioca come ha giocato Tu dici a meno 13 potrebbe essere qualche speranza Vediamo la probabile formazione dell'Atalanta Sì tu ci credi perché c'è ancora il derby da giocare Sì 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 Tu ci credi Lui sotto sotto una tabellina ce l'ha Andiamo a vedere la formazione Io la matematica non mi condanna Io sono lì Anche qui qualche dubbio c'è Gasperini ha intanto il grande dubbio Scalvini Perché Scalvini si è fatto male col Milan Oggi si è allenato però È da capire se lo vuole rischiare O se puntare su Ian Noi abbiamo pensato più alla seconda opzione E poi Pasalic potrebbe giocare Oggi l'ha detto proprio Gasperini Al posto di Lukman e dello stesso Miranciuk Davanti De Ketelar favorito su Scamacca E proprio di Scamacca ha parlato Gasperini Tirandogli una bella frecciata Sentiamolo un po' Si è entrato bene Scamacca è un ragazzo che si comporta benissimo Che lavora tanto Che è un ragazzo positivo Quindi non c'è nessun problema a Scamacca L'unico problema è considerare Scamacca un grande campione E questo oggi non è possibile Lui lavora per magari cercare di diventarlo Non so come cercano di farlo in tanti Ma l'unico problema è solo questo Lui ha fatto delle ottime gare Delle ottime partite Altre meno bene E poi può succedere Però il ragazzo è molto positivo È molto positivo Però dice L'unico problema di Scamacca è considerarlo un campione Non è un campione Scamacca Beh ma non ha detto Cioè no io qua sono d'accordo con Gasperini Cioè il problema è considerarlo un grande campione Cioè è ovvio perché se tu pensi che lui debba giocare da grande campione Beh non lo è sicuramente Ma quali sono i grandi campioni? Non sono tantissimi Magari lo diventerà Io pensavo che Scamacca fosse un po' più pronto Cioè fa la panchina nell'Atalanta Io non l'avevo secondo me Se tu vieni in Italia a fare la panchina all'Atalanta Lasci il West Ham e vieni all'Atalanta e non giochi Sì ma non giocava neanche lì Non giocava neanche lì esatto Però lui dice forse il problema sono le aspettative Se tu ti aspetti che sia un campione Lo consideri deludente Se lo consideri un giocatore normale Dice però è uno che si impegna Cioè almeno io l'ho vista così Per una volta vedo la buona fede Perché poi giustamente mi suggeriva Paolo Marcello Da dietro le quinte Che quest'estate c'è stata una slide indormica da ridere Perché Scamacca era un passo dall'Inter E Turam era un passo dal Milan Pensa un po' Quindi pensa come potevano cambiare Oppure ti chiedo Thomas Magari Scamacca in questa Inter sarebbe venuto fuori A posto di Arnautovic Sì come terza punta Magari avrebbe fatto bene Cioè il concetto è che noi sono due anni Che diciamo che Scamacca è l'unico centravanti italiano Che potrebbe diventare Però ragazzi potrebbe Ma molto potrebbe Perché ad oggi È un buon giocatore Però non vedo questo grande campione Un buon giocatore Che secondo me Sai per fare la differenza ci vuole altro Ragazzi lì davanti No ma forse Però Gasperini Però Gasperini quando dice così Dice per dire perché probabilmente 25 anni 99 Sì è un po' Cioè quanto è il passaggio che era dal Sassuolo Quanto è che era stato? 40 milioni 40 milioni dal Sassuolo al West M Qui secondo me Magari questa valutazione Ha fatto pensare che ci trovassimo di fronte A un grande campione Quello che diceva Gasperini Poi in realtà Diciamo il valore che è stato dato Non era quello che in realtà Ragazzi sta facendo la panchina Sì cioè secondo me Lui ha scelto l'Atalanta invece dell'Inter Perché ha pensato All'Inter faccio panchina Mentre a Bergamo vado a fare il titolare E mi guadagno l'europeo da titolare Invece non sta andando così Invece sta a titolare Però Spalletti ripeto In una conferenza stampa Adesso non ricordo bene di quando Invece parlava benissimo di Scamacca Cioè lui piace molto come giocatore Però personalmente nemmeno io Lo reputo un grande Cioè a me non piace Ma guarda che Gasperini Non ne ha parlato male Ha detto che si impegna Che lavora Però comunque non sei il titolare Sì ma non è bello Paolo che gli dica Sì ma se vi aspettate il campione Non lo devi dire È un tuo giocatore Devi dire È un giocatore che deve crescere In genere si dice così Devi crescere Ma 25 anni però Se vi aspettate il campione Cioè devi essere già venuto fuori O comunque devi essere in rampa di lancio Questo sicuro Ma io sto dicendo Che io penso che Ecco Criticavamo prima Allegri Allegri Una cosa del genere Di Scamacca Se l'avesse avuto in squadra Non l'avrebbe detta Come neanche Pioli L'avrebbe detta Vabbè Cioè nel senso che Cioè comunque Tu il giocatore Lo devi comunque difendere Lo devi comunque Cercare di non demoralizzare Cioè io se sono Scamacca E mi sento quelle parole lì Mi sento dire Sì è un bravo giocatore Però se vi immaginate Che diventi un campione Siamo fuori scelta Quante volte Però abbiamo sentito Tipo Moggi Gente che dice Che bisogna sapere Anche alcune volte Il mandare dei messaggi Anche abbastanza Vabbè ma gliele mandi Nello spogliatoio Gliele mandi messaggi E però dice Magari alcuni hanno bisogno Nelle visioni Ma con l'hanno bisogno Di essere stimolato Magari lo spiego Io personalmente Magari per stimolarlo Non sono un estimatore di Scamacca Perché mi fa vedere Troppe poche cose Magari fa anche Dei bei gol ogni tanto Ma ne fa talmente di rado Che francamente Ne vorrei vedere Un pochettino più Di continuità Anche da parte di questo ragazzo Però io personalmente Sento una cosa del genere Se sono Scamacca Mi demoralizzo E magari ti stimola Che ne sai Magari la prende In un'altra maniera Può darsi eh Cioè ognuno poi Sì ognuno ha la sua torcia Per stimolare Magari gli dice Ah sì Adesso ti faccio vedere io Mister chi sono Hai capito Magari lui Sai Perché Gasperini Gasperini sotto questo punto di vista È molto bravo A stimolare i giocatori Quindi può essere Una chiave di lettura In maniera diversa Magari domenica Trovate il titolare Magari Pensa a te Speremo dalla prossima Ti dimostra Ti dimostra il fatto Che non è Che ci credo tanto Che il tecnico del West Ham Una volta L'aveva fermato In allenamento Rimproverandolo Di Poca applicazione No Di essere un po' leggero Sai che poi In Premier Gli allenamenti Sono fondamentali Per scegliere Per la formazione titolare Cioè gli allenamenti Sono durissimi E lo rimproverasse O lo avesse rimproverato Almeno una volta Questo è sicuro Di non avere La grinta giusta L'atteggiamento giusto E anche Gasperini Forse Pensa un po' questo Perché Non ha detto proprio così Però l'altra sera Qualcosina ha detto Sulla fisicità Che non si è vista Di Scamacca Anche perché lui È entrato malissimo È entrato male Esatto Con quella fisicità Forse È uno che Non mette tutto Non dà tutto E poi Max Oggi Gasperini È tornato anche Sul rigore Della partita Col Milan Che ha portato Poi a quella polemica A distanza Con Pioli Ve lo faccio ascoltare Gasperini Che ci torna su Sentiamo il suo pensiero No allora Io sul regolamento Sulle cose Mi sono già Già espresso Abbastanza No? Quindi A me non piace Ma non piace sempre Non è che non piace Quando ti va bene Ti piace Quando ti va male Non ti piace Cioè Questo è fastidioso Cambiare Cambiare Opinione A secondo Del Del proprio vantaggio Non mi piace Tutte queste Cose del VAR Che si sono innescate Quest'anno Questi contatti Che sono calcolati Questi Questi falli di mano Queste simulazioni Grosse Che ci sono Non mi piacciono Però non mi piacciono Già da prima Non è che non mi piacciono Poi giochi E succede Contro il Milan E viene fuori Viene fuori Questo Ma ne succedono A decine Ormai da mesi Non è la prima volta Quindi Adesso Domenica c'era I Rati E Orsato Meglio di così Hanno valutato Hanno valutato Il regolamento A me Non piace Però Il regolamento Evidentemente È questo Due dei migliori In assoluto A bocce ferme Però Se il regolamento È questo Devo prenderne atto Se poi mi chiedi Direttamente Mi sono già espresso Sempre Non se va bene Se va male Sempre Ce l'ha un po' Su Max Con il fatto Che se ne stia parlando Solo perché è stato dato Il rigore contro il Milan Dice lui Indubbiamente No questa volta ha ragione Perché ho sentito anche altre Conferenze stampa Di Gasperini L'ha sempre detto Come peraltro Diciamo un po' tutti Cioè questo rigore Questi rigori Rigorini Non dovrebbero essere dati Però nel momento in cui Il regolamento è questo Purtroppo non ci si può fare nulla Allora aspetta Se il regolamento è questo Allora perché non dovrebbero essere dati Cioè L'arbitro deve eseguire i regolamenti No sto dicendo che Allora Io sono favorevole Cioè alla reintroduzione Del fallo a due in aria Per questo è un tipico caso In cui Chiaro non c'è nessun vantaggio Per l'attaccante Però è un fallo che Comunque se Anche se il contatto c'è È molto lieve Non fallo a due in aria Perché non Non pensiamo a fare questo Invece di far intervenire Var Sul contatto Però ragazzi Poi dopo Ripeto Il regolamento è sbagliato E così va bene Il regolamento è questo Loro hanno visto Però ci diverso anche Un'immocità Come diceva Gasperini Lui ha detto una cosa Ben chiara Purtroppo Sono mezzi rigorini Perché anche quello Che è stato dato Col Milan a Bologna Perché è uguale Abbassa la testa Secondo me Quello su chi era Sì di chi Sono mezzi rigori Però il regolamento dice Che tu non puoi toccare Con un piede Con un avversario in aria E mi sta bene Però Vogliamo dire a Gasperini Perché lui sta zitto Perché in Coppa Italia Ci sono due rigori Uno per il Milan Che non è stato dato Al novantesimo E quello dell'Atalanta Non c'era Ve lo ricordate? Poi gliene fu Anche negato uno Però sì Quella fu una partita Piena di poli C'è un rigore per il Novantesimo Il Milan perde 2 a 1 Va fuori dalla Coppa Italia E poi il 2 a 1 Dell'Atalanta E il giocatore del Milan Che cerca la gamba De quello dell'Atalanta Fatti a Bologna Ha dato fastidio quello No? Gasperini ha detto Siamo in credito Enorme col Milan Paolo Vedo che volevi intervenire No Nello specifico Mi ha stupito Che Orsato Si è andato al VAR Nel senso che Di solito Lui è uno decisionista Che si fida di quello Che vede Cioè non ho capito Ma se ti chiama Devi andare Ma secondo me È stato Sono me fuorviato Dalle mani al volto Di Olma Però lui l'ha guardato Visto che non era sul volto Però poi Se non si fosse messa Le mani al volto Olma Nessuno va a guardare Tra l'altro Se ci fate caso Orsato ha visto Mezzo replay Cioè Non è stato al VAR Neanche 10 secondi Ma proprio Ha guardato E va bene Ma siete d'accordo con me Che quando vedi una scena del genere Se il giocatore Prende il fianco E tu ti metti le mani in faccia Io lo vedo E ti butto fuori Per simulazione Allora anche quello Bisogna attivare Perché quella lì Non esiste E lo prendi qui Sullo sterno E ti metti le mani in faccia Se dai simulazione Allora non è fallo Non è rigore Una simulazione Di aver preso un corpo In fallo O uno l'altro Non è che non hai preso un colpo Il fallo non è simulazione Il fallo glielo dai Perché è giusto Perché lo prendi qua Però tu non ti metti Le mani in faccia E non fai quella sceneggiata lì E quello è un altro discorso Comunque Comunque il Rati Cioè Orsato Va E cambia opinione Perché lassù c'è il Rati Sapete quanto è considerato Il Rati All'interno dell'AIA In questo momento Il Rati è considerato Il miglior varista d'Italia Ok Ma se gli dà una scarpata Nei reni Che lo vede tutta Italia Perché l'abbiamo messo tutti in diretta I Rati I Rati I Rati I Rati Tante volte Tante volte Chi c'era al VAR Quando Bissec Spinge Strotma Il Rati E il Rati Non ha chiamato doveri Per andare a vedere Perché secondo lui Quello è scandaloso Ha valutato Cioè Lino valuta in una maniera Qua che Secondo me Io personalmente Non avrei dato mai rigore Per il calcio che intendo io Non è mai rigore Però visto che il nuovo regolamento Basta il tocco Per me non ti vuoi più muovere Non ti vuoi più muovere Ma per me non è rigore Se non l'avessero dato Noi per una settimana Saremmo stati lì a parlare Sicuramente se non l'avessero dato Qualcuno avrebbe detto Che manca un rigore all'Atalanta Questo è sicuro